Musica Ben trovati, tra poco l'appuntamento con l'informazione. Caltanissetta intesa contro il racket, firmato un protocollo in prefettura. Formazione 15 arresti a Palermo. Droga, firmato un disoccupato nisseno con 21 bottiglie di metadone. A tra poco. Ben trovati, nuovo appuntamento con l'informazione. Caltanissetta intesa contro il racket, firmato un protocollo in prefettura. Una più stretta collaborazione tra l'Associazione degli Industriali della Sicilia e la Federazione Anti-Racket, finalizzata all'assistenza degli imprenditori che subiscono richieste estorsive o altre forme di condizionamento mafioso, sancita in un protocollo d'intesa sottoscritto a Caltanissetta in prefettura, alla presenza dei vertici della magistratura, delle forze dell'ordine e degli organi dello Stato. Firmatari Antonello Montante, presidente di Confindustria Sicilia, il prefetto di Caltanissetta, Carmine Valente, il commissario anti-racket, Elisabetta Belgiorno, il presidente onorario della FAI, Tanno Grasso, e il massimo responsabile della stessa federazione, Giuseppe Scandurra. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto PON Sicurezza, dal titolo Caltanissetta e Caserta Sicure e Moderne, per lo sviluppo di una rete di tutela del sistema imprenditoriale locale, dalle pressioni criminali, del racket e dell'usura. Ora, una vicenda di estorsione non si gestisce solo, come dire, con la Costituzione delle Parti Civili. La Costituzione delle Parti Civili è, come dire, l'epilogo della collaborazione della parte offesa. Ma si costruisce a partire dal primo momento in cui l'imprenditore riceve il primo impulso, il primo sintomo di un'attività intimidatoria nei suoi confronti e da quel momento si inizia a lavorare per farne la parte offesa un collaboratore dell'autorità giudiziaria. Ora, in questo rapporto, in questi 23 anni di nostra storia, ovviamente è emesso l'ovvio, ma che io giudio così importante che è necessario richiamarlo, anche se ovvio, che non c'è una sola collaborazione. Cioè, non necessariamente l'atto di collaborazione dell'imprenditore deve immediatamente esprimersi attraverso un'assunzione a sommarie informazioni, attraverso una formale testimonianza resa alle forze dell'ordine. Ci possono essere, tra questa modalità e il mantenere una uguale, ferma collaborazione, tante gradazioni e tante opzioni. Quindi, il nostro intervento tecnico, questa è la filosofia di tutto questo, è volto a incrementare la collaborazione degli imprenditori con le forze dell'ordine, utilizzando come elemento forte la possibilità anche di una riduzione dell'esposizione da parte dell'imprenditore. L'area della Sicilia è maggiormente a rischio? Secondo me non è un problema di Sicilia, è un problema anche di paese, non è più un problema siciliano. Non c'è dubbio che i territori, come Caltanissetta, dove è partito tutto, quindi per l'organizzazione criminale, è il territorio che ha avuto la responsabilità di far cambiare le cose, nella giusta strada. Quindi un protocollo atteso, anche se con la FAI lavoriamo già dal 2005, oggi però si sancisce veramente un momento fondamentale per proseguire in quel percorso iniziato nel 2005 e oggi che ha raggiunto grandissimi risultati. Questo protocollo in qualche maniera ufficializza quel gioco in tante che ha fatto, compi-industria con l'associazione anti-racket. La FAI, quindi l'associazione anti-racket maggiormente rappresentativa in Italia, avrà uno sportello dentro compi-industria per assistere meglio a tutte quelle imprese, a quegli imprenditori taglieggiate dalle organizzazioni criminali. Spesso non si denuncia perché si ha paura delle conseguenze, ma spessissimo non si denuncia per convenienza, perché si pensa che la comunità organizzata ti dia molte volte più servizi di quello che ti dà lo Stato. Lì la partita si deve giocare. Fa capire che lo Stato può farti diventare più forte e ti può rendire meglio nei mercati liberi. È un momento difficile perché la mafia, in qualche maniera, forse più debba, non lo so, ma sta salzando il tiro. I segnali sono le richieste di restruzione che arrivano alle nostre imprese, ai nostri imprenditori, ma ci sono un momento più raffinate che in questi anni hanno imparato a combattere il virus dello Stato. L'imprenditore, diciamo, è un fatto culturale, capisce che, in qualche maniera, per convenienza, che non può assolutamente stare dalla parte della gravità organizzata, è che lo Stato può dare di più e quindi si rivolge alle istituzioni, quindi alle camere di commercio, alle associazioni datoriali che funzionano, ma soprattutto all'associazione del racket, e alla fine si convince che è utile e importante denunciare. Si rischia meno, perché se stiamo tutti insieme non possono assolutamente far fuori tutti, quindi in qualche maniera... Credo che forse l'effetto principale che può dare questo tipo di divulgazione, di questo tipo di comunicazione, è sì l'effetto di responsabilità da parte di Confindustria che si mette in gioco e in prima linea perché dice agli imprenditori non vi preoccupate. Dall'altra parte può anche dire se voi denunciate, state pure tranquilli che non vi succede niente, perché fino adesso non è successo nulla. Questo mi sembra un messaggio molto positivo. Voltiamo pagina, formazione, 15 arresti a Palermo. A Palermo i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 15 persone, due in carcere e 13 ai domiciliari, tra dipendenti della regione siciliana e imprenditori. Indagate a vario titolo per peculato, truffa, turbata libertà degli incanti, falsità materiale e ideologica. Sarebbe stato attuato un meccanismo di distrazione, e successiva appropriazione in debita di circa 500 mila euro nel settore della formazione, su conti correnti personali di indagati, invece che su quelli delle imprese che lavoravano per la regione. Le indagini sono state avviate nel febbraio 2012 dai carabinieri della sezione di Polizia Giudiziaria della Procura. In carcere sono finiti Emanuele Currao, funzionario regionale, e Mario Avare, imprenditore. Ai domiciliari Concetta Cimino, 67 anni, nativa di Caltanissetta, dirigente regionale in pensione, Marco Inserillo, Gualtiero Curatolo, Maria Concetta Rizzo, Maria Antonella Cavalieri, Federico Bartolotta, Vito Di Pietra, Giuseppina Bonfardeci, Giampiero Spallino, Carmelo Zannelli, Michele Ducato, Marcella Gazzelli. Ai domiciliari anche l'imprenditore, Amedeo Filingeri. A Calamonaci, nell'Agrigentino, nella notte i carabinieri hanno fermato due rumeni, Pavel Dogariu, 21 anni, e Florin Dogariu, 18, per ricettazione in concorso. Nel corso di un controllo sono stati trovati in possesso di oggetti preziosi, 500 euro in contanti, una bomboletta di gas, guanti e un passamontagna. Dopo le formalità di rito, i protagonisti della vicenda sono stati rinchiusi nel carcere di Sciacca a disposizione dell'autorità giudiziaria. Droga, arrestato, un disoccupato nisseno con 21 bottiglie di metadone. A Caltanissette, i carabinieri della compagnia hanno fermato Antonio Giannone, 47 anni nisseno, disoccupato per detenzione e fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il blitz dei militari è scattato nel pomeriggio di ieri, nel terminal dei bus in via Rochester. Uno dei passeggeri, sceso dal mezzo frettolosamente, veniva accerchiato e bloccato dai militari. Rinvenute 21 bottiglie contenenti metadone, complessivamente due litri e mezzo, sequestrati anche 200 euro. L'uomo è stato condotto nella casa circondariale Malaspina, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Indagini in corso. Allicata, i carabinieri della locale stazione, durante un servizio di controllo, hanno tratto in arresto Salvatore Sirone, 35 anni, già ai domiciliari, sorpreso fuori dalla propria abitazione, in violazione della misura cautelare. Evasione, il reato ipotizzato a carico dell'uomo, che era stato precedentemente fermato dai militari di Ravanusa, per furto di cavi elettrici. In strada e in pista, vincono le regole, incontro degli studenti nisseni, con il pilota Andrea Montermini, all'auditorium Bufalino. Andrea Montermini, ex terzo pilota della Ferrari, negli anni 90, quando correvano Prost e Alessi, qui a Caltanissetta, per incontrare gli studenti, su un tema importantissimo, come quello della sicurezza stradale. Sì, la fortuna di avere tanti ragazzi, che incontro, col Sarasay Factor, da ormai nove anni, abbiamo incontrato, appunto, più di 40 mila ragazzi, e il fatto di essere anche istruttore, mi dà la possibilità, di poter trasferire a loro, delle nozioni, delle situazioni, che si trovano sia in pista, che in strada, e le posso gestire con loro. La fortuna è anche che i ragazzi ascoltano, sono molto, parliamo loro un linguaggio che, praticamente, è il loro linguaggio, e quindi riusciamo, spesso e volentieri, a entrare in sintonia, assolutamente unica con loro, per cui, oltre ad ascoltarci, riescono anche a ricordarsi, quello che diciamo. Cosa è importante nella guida? Le regole, le regole sono assolutamente fondamentali, ma regole non solo quelle, che ti vengono imposte dal legislatore, ma anche quelle, che ci imponiamo noi stessi, l'attenzione, di avere sempre attenzione, perché con qualsiasi cosa, che si guidi, che sia auto, che sia moto, che sia camion, qualsiasi mezzo, l'attenzione è fondamentale, noi diciamo sempre una cosa, in strada e in pista, vincono le regole. Il numero uno, tra i nemici alla guida? È sicuramente, la disattenzione, va bene, l'alcol, queste cose qua, queste sono regole, che comunque portano, sempre a un'unica situazione, quelle non avere, l'attenzione sempre, al 100%, perché come dico spesso, non succedono le cose, o ti arriva un messaggino, quando succedono, hai solo il tempo di reagire, per cui la reazione, deve essere al massimo, tutte le volte, come in pista. Qual è il messaggio di un pilota, ai giovani e meno giovani, sulle strade siciliane? Sicuramente cercare di portare avanti, l'attenzione, mi dispiace dover calcare sempre la mano su questo, però è un tasto fondamentale, è l'unica cosa che può salvarci, e salvare tante vite umane. Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco per la seconda parte. stradale nissena assente durante le notti, dura presa di posizione di diversi sindacati. In una nota diffusa dai sindacati SIULP, SAP, UGL Polizie e CONSAP, si legge che la polizia stradale di Caltanissetta sarà assente durante le notti, lungo gli itinerari di competenza. La riorganizzazione del servizio non piace a tutte le organizzazioni sindacali. Si legge nello stesso documento che non ci sarà più la presenza di una pattuglia della Polstrada, che garantisce la sicurezza dei cittadini, interviene in caso di sinistro e previene il fenomeno delle stragi del sabato sera. I sindacati SIULP, SAP, UGL Polizie e CONSAP hanno dichiarato lo stato d'agitazione e hanno deciso di manifestare il proprio dissenso in tutte le sedi. Focus Donna, iniziativa contro la depressione a Caltanissetta. Prossimamente si terrà una giornata nazionale dedicata alla salute mentale sul tema Focus Donna, iniziativa dell'Associazione Liga Bue di Caltanissetta. Sì, è una manifestazione che abbiamo organizzato noi dall'Associazione Liga Bue per attenzionare un problema che riguarda la salute mentale che attualmente occupa un posto rilevante, che è il tema della depressione di genere. Quando parlo di genere mi riferisco alla depressione femminile. È stato ormai accertato da studi, da recenti studi, che la depressione femminile è il doppio della depressione maschile. Quindi ogni quattro ricoverati, tre sono donne e uno è maschio. Quindi quest'anno abbiamo voluto attenzionare questa cosa. Come? Attraverso degli opuscle che abbiamo preparato informativi che distribuiremo in occasione della giornata nazionale della salute mentale che si terrà presso la parrocchia San Luca di Caltanissetta. Intanto voi siete presenti qui alla Providenza con un'iniziativa di solidarietà. Sì, tra le manifestazioni che abbiamo preparato quest'anno, oltre alla questione della salute, abbiamo inserito la questione solidale con diverse manifestazioni che si terranno in quattro chiese diverse, in quattro parrocchie diverse di Caltanissetta. Sono San Luca, la Providenza, San Giuseppe e Terra Pelata, Santa Barbara. In questa occasione faremo una raccolta alimentare che verranno distribuiti questi alimenti ai residenti del quartiere povero. Cosa metterete a mostra? Le ragazze che hanno partecipato, quasi sono tutte donne, hanno realizzato degli oggettini, delle cose che metteranno in venda e per cui il ricavato andrà in beneficenza. SOS TCS e allarme punta ruolo rosso. SOS TCS da un cittadino che richiama l'attenzione sul punta ruolo rosso. Io sono già anni che mi occupo di questo problema e avevo già segnalato diversi anni fa, come vedete alle mie spalle, purtroppo si è arrivato a questo punto e cosa che poteva essere salvata con una spesa irrisoria perché per salvare una palma di questa, forse molti non lo sanno, bastavano anche 100 euro. E' importante la prevenzione? La prevenzione era importante e andava fatta anni prima perché il punta ruolo rosso non è un insetto che si ferma alle palme. quando finiranno le nostre palme secolari attaccheranno poi altre piante della stessa tipologia oppure si adatterà ad altre, perché state tranquilli che non farà la dieta finita le palme. Devo dire anche che il comune, l'ufficio, i parchi e i giardini del comune ha fatto un intervento, anche se è tardivo, però lo ha fatto su una ventina di palme storiche di Caltanissetle. Allora, l'intervento del punta ruolo rosso, molti dicono che ormai è battaglia persa, assolutamente. Praticamente si uccide con un normale pesticida per piante che si trova nei negozi di agricoltura, quindi anche il costo per salvare la palma è veramente basso. Il trattamento va fatto, questo bisogna anche dirlo, va fatto ciclicamente in modo di non coinvolgere le attività cittadini, i negozianti, gli stessi cittadini che hanno amore per la propria città, perché basterebbe 10 centesimi per ogni cittadino di questo quartiere e le palme sarebbero state salvate e curate. E tutto vi lascio alla rubrica Salute e Benessere, grazie per l'attenzione e buon proseguimento. E tutto vi lascio alla rubrica Salute e Benessere, grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie per la visione!